salve amici buongiorno stamattina faremo la prova del pennello di green di cavallo 50 50 di green e 50 di coda eccola qui l'ho anche messo direttamente in ammollo un attimo metto gli occhiali perché c'è una scritta molto piccolina eccola qui non so se si riesce a leggere è della zenith l'ho messo in ammollo bello come pannello l'ho messo in ammollo abbiamo fatto l'attivazione l'ho anche messo un po di schiuma useremo questa crema da barba che è uno stick che mi è stato naturalmente consigliata artistiche italiano costa un po in più ma non nella fine del mondo continueremo ad usare il nuovo rasoio diciamo il clone del mercur future che si sta comportando al mio avviso bene lo caricheremo con un'astra e devo ancora caricarlo l'ho dimenticato va bene lo facciamo insieme perché ho qui l'altro pacchetto già aperto non l'ho fatto lo facciamo dopo assieme tanto un minuto in più per quello che riguarda non userò il pre barba naturalmente però come finitura per l'irritazione userò in tre picchi e un polivalente va bene per prima e per dopo usero questo invece del mio come solito prep come dopo barba alcolico andremo ad usare il pro raso verde e anche se so che lo stick ricordo quando usavo il pambolino 45 anni fa si metteva così non so questo come perché è morbido e si dovrebbe mettere sul viso ma io preferisco il montaggio in ciotola quindi prenderò un po di questa crema la spalmerò direttamente su il pennello e voglio montare in ciotola andiamo a fare l'operazione insieme ecco però ha rotto un po tutto quanto il contenitore la profumazione ci sta vedete guardate un po è un profumo però non saprei descrivere che tipo ma dovrei prendere un po e metterne un po coprendo così e lo metto nel pennello questo bisogna poi chiuderlo perché alla fine ma a finire che diventa asciutto va bene poi farò io con comodo dopo bene dovremmo fare la nostra schiuma nella ciotolina andiamo a farla ecco la ciotolina il pennello che avevamo già messo tutto quanto all'interno e allora chiudiamo ancora un po d'acqua la resa c'è anche la corposità bella insomma una profumazione un po indecisa non saprei però poco persistente poco persistente bene allora andiamo a fare la nostra bella non saponata ecco qui il pennello picrine pizzica ancora un po nonostante ma è il primo uso questo quindi avremo sicuramente qualche perdita di pelo ancora perché uno tua è anche normale anche in quelli vecchi molto morbido il ciuffo nel senso che non è che da vede non è che si apre come quello lì di seta di setola scusate come quello di seta con molta facilità però si apre lo stesso la rosetta e l'assieme è molto buono vedete vedete non ha bisogno credo almeno queste sono le prime impressioni delle dita all'interno proprio a modi barbiere come usavano una volta i barbiere quello lì di grine nero peli lunghi così con la mano dentro e come attualmente usano anche quello lì di seta di reale tipo il 48 lungo bene molto morbido molto molto morbido bisogna capirlo perché poi non per un espogliazione bisogna mettere le mani e cercare ma non va bene per questa cosa per espogliare però diciamo per il massaggino da fare dovremmo in qualche modo la crema invece è molto corposa vedete si realizza ancora di più di quello che si era realizzata nella ciotola facendola sul viso forse si mette un po d'acqua ma benissimo però di profumazione non no non è niente prima impressione la profumazione non persiste e non giustifica il costo la qualità invece del crema va bene è corposa e questa giustifica un po il costo però la profumazione non c'è va bene andiamo a fare l'altra operazione in cui metto gli occhiali perché come sapete non buona visibilità ed è questa cosa apriamo la lametta questa qui pastra quella verde il rasoio sapete che si apre in questo modo ed ecco qui la lama messa va a incastro bene io vorrei provarlo con il numero 3 un buon gap vediamo un po sempre possibilmente la pelle tesa ah mi sono dimenticato di brufoletta per la miseria ah 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 Grazie. La lametta astra, la sappiamo, quella di verde, è molto funzionale. Il resulio l'abbiamo anche provato. Però con l'aggressività, l'apertura di GAP3. Bene, anche lo sciacquo è molto veloce. Per quanto riguarda invece il pennello, abbiamo trovato questa difficoltà solamente che è morbido. Ma si sapeva, perché il clime è un po' più morbido di quello che è la setola di maiale. La schiuma è venuta, una bella schiuma. È molto morbido il ciuffo. Morbido nel senso, non ha consistenza di ritorno facilmente. Bisognerebbe, anche per accompagnarlo un po' con le dita, ripeto, come ho detto prima, a mo' di barbiere. La crema da barba va bene, ma la profumazione è quasi del tutto svanita. Però, come scorrevolezza, va bene. E anche, come diciamo, corposità, perché la vedete, no? Bella corposa, là. E credo che, dato che non è il caso, ma se andessi a mettere ancora un po' d'acqua, come ho fatto adesso, e ridare ancora, darebbe ancora... più corposità e schiuma, invatti. Sì. Vedete? C'è bisogno di provarlo. Questa è la prima volta, poi lo proverò tutti i giorni io, questo pennello, altri 4-5 giorni, prima di fare un altro video, e vi darò qualche definizione, secondo delle mie sensazioni, a riguardo. Sempre con il 3 andiamo a fare il controvelo. Grazie, questo è un clube, lo capisco, non lo sapevo nemmeno, che fosse un coso cinese, pensavo che si trattasse di un qualcosa, di un'azienda, che vincere, ma fa altri prodotti. sono io confusso, però devo dire che funziona bene. Va bene, insomma, nella sua funzionalità, per quello che poi è costato. Ecco, già è andato via un pelo, ma non ci sa quanti ne sono andati via. Io ho visto solo questo, ma quello è nuovo, ancora un po' peggio degli altri, questa è la difficoltà. Ma non è che per chi vuole divertirsi, o per chi non si fa la barba tutti i giorni, magari fa un giorno sì, due no, magari può fare direttamente con un'apertura 5-6, per quella più lunga come pelo, e poi andare direttamente in controvelo, o magari la seconda passata, con un 2 o un 3. Andiamo a fare la nostra bella obbligata a svesare. Ecco questo. Comunque resta il fatto che, lo vedete, è morbidissimo, prende forma del movimento, vedete? fanno quell'elasticità di ritornare. È un pelo naturale qui, questo è anche il tasso, so che fa questo problema, però questo è un po' di più, il cavallo è un po' di più rispetto ai pennelli naturali. Ma io lo volevo provare, era un gusto che volevo togliere, uno sfizio, se mi dà una sensazione diversa, l'alterno e mi diverto a cambiare pennelli, come ci cambiamo i rasuri, oppure tipo di profumo, tipo di crema. Bene, andiamo con la trasversale. Anche qui un altro punto un po' particolare, perché è grandicello. Bisogna un po' prenderci la mano. Non è lì. Consiglierei questo rasoio, ha un principiato del rasoio di sicurezza, perché ce ne sono altri più tranquilli, perché bisogna prendersi un po' la mano. Anche se a prima vista sembra che non faccia nessuna attenzione, ma io faccio attenzione, io lo appoggio solamente, anche se il schiuma, quello è il pennello, si muove da solo, io non lo spingo. è anche normale. E' anche. E' anche. Grazie a tutti. Non vedo più niente. Però troppo tirata così una barba quando non c'è necessità. Io che ho mirato tutti i giorni. Questa difficoltà la noto adesso domani quando ho mirato che faccio solo due passate. A volte quella di pelo e quella in obbligo perché magari al controvelo no, ma se proprio dovresti fare la faccia di una forma più leggera. Troppo tirata, se non c'è la necessità non è che sia genia. Con permesso mi faccio una sciacquatina. Eccoci qua. Mettiamo la pietra al lume, bagnandola. Dunque, che dire amici? Questa crema che è uno stick Mast Michè, è italiana. Costato questo stick non molto, 5 euro mi sembra. Beh, diciamo che è una crema che andrebbe passata. Poi magari un'altra volta facciamo pure questa prova. Magari con l'altro pennello che ho preso, quello Synthetic S-Brush, della Omega, che è arrivato insieme a questo. Ma adesso voglio provare prima questo qui. Non mi soddisfa perché io preferisco sempre quello in ciotola. Però la prossima rasatura voglio farlo con questo tipo di crema. Facciamo un video. Voglio passarla e fare il montaggio sul viso. Vedere che se mi dà una sensazione diversa. Per quanto riguarda la qualitativamente, secondo le mie sensazioni, si intende perché sono sensazioni mie, questa è corposa, scorrevole come crema, in una profumazione inizialmente bella, perché io anche io ce l'ho qui, io sento una profumazione. Però quando l'ho messa dentro al pennello, nell'acqua, l'abbiamo un po' diluita, questa profumazione, io l'ho persa, non l'ho più sentita, diciamo. Allora, a differenza delle altre creme, che anche se ben lieve, però io la sento, diciamo, tutto quanto. Poi io faccio sempre un rapporto prezzo-qualità. Cioè, mi spiego, non è che una persona dice, tanto perché ho fumato nel passato tanti anni, compro le malbore, ho comprato, non le malbore, ho comprato l'MS. Ho risparmiato, tu non hai risparmiato, non hai risparmiato perché hai fumato un'altra cosa. Compro la carne di vitello, magari di prima scelta ho comprato la carne di vitello, quarta scelta, tu non hai risparmiato, hai preso solo un altro prodotto. Hai comprato l'arrosto, la tipostecco o hai comprato eventualmente il cirello. Solo due cose completamente diverse. Allora, il fatto è questo, se noi andiamo a comprare questo per 5 euro e poi per 2 euro, 2 euro e 30, 1,90, 2,80, troviamo l'1,50, perché questo è 75 ml, 1,50, di quello dell'abrorasa, tanto per dire la rossa, o quella brutto, indipendente, e ha una corposità diversa, ha un profumo che resta, e io non è che in effetti ho voluto risparmiare, io ho preso un altro prodotto e sono pienamente d'accordo, è un altro prodotto, d'accordo. Allora, il risparmio è dovuto a un fatto di usare un prodotto per un altro prodotto. Io adesso sto usando una crema da barba. Devo risparmiare, prendo un altro prodotto. Però se devo prendere la crema da barba, e non è una crema da barba uguale alle altre, magari costa solo di più, cioè io ho questo prezzo in più, perché lo devo pagare? Questo è quello che volevo spiegarmi. Cioè, voglio dire che il risparmio è una cosa ben definita. Si risparmia quando si prende la stessa qualità a un prezzo inferiore. Allora stiamo risparmiando. Come paghiamo di più se prendiamo una qualità superiore? Allora stiamo comprando un prodotto superiore. Ma se il prodotto non si dimostra superiore al prezzo che noi paghiamo, o equivale al prezzo che noi paghiamo, ma superiore a un altro prodotto che ha comunque una stessa funzione, a questo punto non è più valida la scelta. Va bene, questi sono pensieri miei, si intende. Scusate, facciamo una sciacquata per togliere la due blocca. Ecco fatto, ci siamo. E vedo qui. Usiamo il nostro bel dopo barba. Freschissimo. A me questo anche se al lume di rock dà la stessa sensazione di disinventare, ma questo a me piace. Ed ecco che andiamo a fare il nostro ultimo massaggino della nostra pelle, il nostro viso ben. Ecco, questa c'è una profumazione encamporata, persistentissima. Più di quella della prep che io preferisco, poi appunto questo. Ragazzi, che dire? Il rasoio l'avevamo già conosciuto, molto bello. Per quello che riguarda invece la lama, la conosciamo, la lastra è funzionale, ha tutto quanto, e quindi si comporta bene anche in diversi altri rasoi. Il pennello di cavallo, ha una bella sensazione, per il fatto del mollo, in tutti i pennelli che te non ha dato quella sensazione, non mi danno, è la sensazione che mi ha dato questo qui. Devo ancora provarlo, questo è il primo giorno, l'ho provato insieme a voi, ne farò ancora domani, dopo domani, prima di fare ancora un altro video, che io ho più di due video, massimo, tre, adesso non riesco a fare, per il mio tempo, eventualmente, a volte poi, è di dare il video, non le dole con il mio computer, magari faccio tre video, ma è un macello, non si riesce a fare, qualche cosa, anche di vecchio, che ho annullato pure. Va bene, la sbarbata è stata domata, la sbarbata è andata, vi auguro buona sbarbata anche a voi, se non l'avete ancora fatta, grazie per l'attenzione, e se qualcuno ha trovato il pennello di green, mi faccia sapere le proprie sensazioni, in modo che possiamo confrontarle, e cercherò di capire, anch'io se è un uso diverso da quello che faccio io. Grazie di tutto, buona giornata e alla prossima, ciao!